rischi è un medico che in caso di un malato c'è un problema deve curarti scusa il medico di base ti dice dove hai preso il raffreddore di solito il medico non te lo chiede, un medico come? il dentista è un medico un dentista invece te lo chiede ma è un medico il dentista? no, non è vero quante volte voi siete andati da altri dentisti eppure ci hanno rimesso mano altri dentisti dopo? quanti dentisti avete cambiato? quanti parrucchieri? ho cambiato dentisti la domanda è che ti hanno sempre fatto è importante che paghi ma chi ti ha fatto questo lavoro? è normale ma c'hai un parrucchiere che si rifiuta di tagliarti i capelli perché ti hanno già tagliati altri parrucchieri? no, però però ti posso dire che inizia a caricare sul pezzo vai da un altro poi vai dall'altro e dici se continui e non... abbiamo i centri assistenza è bravo in quei casi ok basta che voi ci contattate qua sul sito dell'aftercare dove sta il contatto qua chi vi risponde? Oleg questo è il numero di Oleg se volete parlare con Oleg cliccate questo lui vi risponde a tutte le... no, non dopo le 8 ok ogni tanto cerca di risolvere veramente tutto quasi tutto però ricordate siamo anche umani che ci sono